Oggi alle 19.30 appuntamento culturale presso la Basilica della Santissima Annunziata sarà presentato il numero 18 della rivista Le Muse, edito dall'omonima Associazione Culturale. Come sempre numerosi gli argomenti trattati che saranno relazionati dal presidente e professore Luigi Blanco. Il nostro direttore Piero Giunta ha intervistato il professore Luigi Blanco che ci illustra gli articoli pubblicati nel numero 18 della rivista Le Muse. Ascoltiamo. Oggi presso la Basilica dell'Annunziata si presenta il numero 18 della rivista Le Muse. Ecco il professore Luigi Blanco, in fintefi, ci dice quali sono gli articoli che troviamo e che possiamo leggere. Voglio fare una piccola premessa. Sono nove anni che la nostra associazione produce la rivista Le Muse, giunto ora al numero 18, 19 contanto il numero 0. I collaboratori esterni non ci mancano. Ci preoccupa soltanto la scomparsa di quelli spicesi e soprattutto l'aumento dei costi, euro 1.400 contro il 1.200 di prima. Per questo contiamo sul contributo dei lettori. La nostra rivista ci dicono piace ancora e ciò ci induce a continuare anche se gli anni incalzano e le forze fisiche si assottigliano. Ma la speranza non ci abbandona e non ci abbandona la forza della nostra volontà. La volontà è sempre forte in chi ama la cultura e soprattutto la letteratura. La rivista presenta 17 articoli di cui 6 storici, 4 filosofici e 7 letterari e sono i seguenti. Spaccaforno fundus della chiesa è un mio articolo. Vincenzo Bellini, genio ed amori di Ignazio Augusto Sant'Angelo. Modica e la Madonna di Montserrat, Domenico Sortino. Matuska Rossia, la madre russia di Carmelo Sampieri. Il latino è noi di Angela Di Salvo. Psicologia e alchimia in Carlo Gustav Jung. La fine della critica nella letteratura e nell'arte di Orazio Cascetto. Il bandito Paolo Grisafi, detto Paolo Marcuzzo, seconda parte, di Daniela Thomas. Cirica, un racconto, una poesia di Pietro Avveduto. La coscienza della giudizio, verità innegabile di Elio Bava. Il racconto popolare siciliano, Piero Meli. Mamma Draia, Federico Faraone. Testa di Turco, di Domenico Sortino. La ricerca storica, di Giovanni Tringali. Papa Francesco, dalla Grecia, sapienza e felicità per il mondo, di Michelangelo Lorevice. L'angolo della poesia a cura di Luigi Blanco. E trattale di poesia, di Orazio Minnella e Salvatore Carlucci, recensione di Luigi Blanco. Questi sono i 17 articoli. A margine di questa nostra chiacchierata radiofonica, professore Blanco, vorrei farle questa domanda. Oggi si scrive e si pubblica tanto nei cosiddetti social, in internet, meno con la carta stampata. Il mondo sta cambiando e anche la scrittura è cambiata. Si deve adeguare ai tempi moderni. Lei cosa ne pensa? La sua riflessione, professore Blanco. Rispondo subito che il libro non morirà mai. Avrà una diminuzione di diffusione, eccetera. Ma il libro non può mai morire. Perché una cosa è leggere e accrazzare le pagine di un libro. Altro è vedere con gli occhi che possibilmente si stancano un racconto, una scrittura sul monitor. La storia ha dimostrato che la carta, comparsa nel III secolo a.C. con il papiro, non è mai scomparsa. Ha superato le soglie dei millenni. Non vedo perché noi uomini nel 2020 e in seguito dovremmo abolire il cartaceo. La carta è come una bella donna. La si accarezza e si prova un'emozione che il computer non darà mai. Ringrazio il presidente dell'Associazione Le Muse, professore Luigi Blanco, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Ringrazio il presidente dell'Associazione Le Muse, professore Luigi Blanco,